Buon pomeriggio dallo Stadio Falcone e Borsellino di Paternò sta per cominciare il match tra Paternò e Polisportiva Santa Maria. Pronti, partenza via. Lunga rimessa di Masullo, Ovisacca può andare via, la mette al centro, Maggio e arriva il vantaggio dei giallorossi, 1-0 della Santa Maria con Domenico Maggio. Il Paternò recupera un buon pallone a centrocampo, il lancio per Mascari, attenzione davanti a Grieco e arriva il pari dei padroni di casa. Ancora gli Etnei ci provano con la piana, bravo Grieco a respingere il tentativo dell'attaccante della Paternò. Avanzano ancora i padroni di casa, Cangemi salva Grieco, poi allontana la difesa giallorossa. Punizione interessante per il Santa Maria, pallone dentro, Maio, il tiro murato. Ancora giallorossi avanti, Maio si gira, la difesa della Paternò si salva. Siamo agli sgoccioli del primo tempo, il tiro di Rizzo, miracolo di Grieco in calcio d'angolo. E allora si va al riposo sull'appunteggio di 1-1. Si ricomincia per il secondo tempo, Cilentani in avanti, la girata di domenico maggio fuori misura. Perso un brutto pallone a centrocampo, c'è la ripartenza della Paternò, il pallone arriva sui piedi di Rizzo e il tiro è il pallone che finisce in rete per il vantaggio. Dei padroni di casa non succede praticamente nulla nella parte centrale del secondo tempo. Siamo in pieno recupero, il cross di Conio si intercetta alla difesa, poi il pallone viene bloccato dal portiere. E arriva ora il triplice fischio del direttore di gara. Il Paternò vince in rimonta 2-1 contro la Polisportiva che adesso, mercoledì, riceve al Carrano la Cireale.